17.27 si è schiantato e ha rischiato di morire con la sua auto si trova infatti all'interno della sua Jaguar Spyder F-Type dal costo di oltre 80.000 euro su un'autostrada nei pressi di Roma e con la sua guida spericolata la situazione è finita male infatti la macchina ha preso un punto ma il guardrail è saltata completamente e si è sfracellata rilascio i filmati dove abbiamo anche un video poco prima dell'incidente che lui aveva postato sui social e ha delle storie inedite che ormai sono già andate cancellate fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo alla prossima linea allo studio fratellino ho preso il muro fratelli ah si doveva andare così frate macchina nuova l'ho demolita airbag scoppiato oh frate oh ma questo è un picazzo frate questo è un picazzo ah 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 Mamma mia, magnifico!